Iniziamo con questi lavori, iniziamo con un po' di cautela, dobbiamo capire bene quali sono i sottoservizi perché l'obiettivo è poi che per il 30 di novembre noi ci vogliamo e ci dobbiamo e ci vogliamo fermare e fare la sosta natalizia per dare la possibilità a tutti quanti i commercianti e i cittadini di godersi le feste di Natale però nel frattempo faremo anche tutta un'altra serie di lavori collaterali che riguarderanno circonvallazione ragusa perché poi dovremo pensare anche che quando in mano a mano che il cantiere andrà avanti l'autobus e i vierelli e le macchine probabilmente non potranno passare più diciamo ci sarà la doppia corsia questa volta, non una corsia unica per i pedoni non ci sarà nessun problema, sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni nel senso che si lavorerà prima sulla parte centrale, poi terminata la parte centrale si andrà sulle ali e quindi tra l'altro i lavori sulle ali faranno anche i lavori notturni e in giorni in cui le attività sono chiuse nel senso che l'impresa ci ha garantito che rompe e ricostruisce nello stesso tempo anche se a tratti, questo garantirà comunque la possibilità di fruire delle attività commerciali sempre c'è stato un incontro con le associazioni di categoria, c'è stato un incontro con i commercianti stasera ce n'è un altro in modo da condividere questo percorso il 19 si farà impiantati in cantiere, inizieranno poi tutta una serie di interventi ci sarà anche qualche piccola modifica per quanto riguarda il traffico in centro storico ma davvero limitate al tempo dell'attività del cantiere saremo davvero attenti e molto sensibili a tutte quelle che sono le richieste le esigenze della parte dei commercianti e cittadini grazie